16 marzo 2021 ora 18 continua la mia scesa escursione adesso finisco salire sopra dopo di che scendo dall'altra parte faccio il percorso inverso e già comincia ad esserci uno sbarramento del sentiero attenzione caduta albri questo col vento prontamente con la mano ma regge qua vedi al rama ho superato l'ostacolo riprende la mia ascesa ma qui c'è vedi questi tutti gli alberi che man mano vengono a capire tutti non se ne salva uno adesso c'è un problema che troppo fa sbagliata per passare tengo un po su fare presa diretta vedi mentre solito non è sempre bombardato addio rimboschimento qua c'è una straccia di pini veramente una straccia allora sono arrivato qua e no che sono arrivato questa sì questa è la straccia che condice le grotte vedete guarda che morì di pini proprio la strage la strage è la mappa sapete cosa faccio adesso salgo qua sopra è passata con la parte qui c'è l'ostacolo sembra troppo tempo allora piano piano ti metto i piedi qua sopra guarda praticamente che è successo qua guarda proprio distrutto non è proprio distrutto quei delinquenti che hanno dato fuoco qua veramente incendio doloso questa è una pineta che aveva buoni 80 anni tu guarda quella quella è la minima parte quel cadono dopo gli alberi non immagini ecco continuo qua adesso sono morti questo è praticamente l'incendio l'incendio le radici sono nostre quindi un po di vento tutto giù per terra ecco qua buonapenio il polmone di luco de marsi qua c'è un cardo salgo qui sopra adesso costeggio man mano proprio distrutto vedi la un'altra serie qua c'è pure qualcuno che se li riporta a terra viene a parlare e fanno bene qua già c'era stata un'opera di svolchimento quando è 15 anni fa guarda qua mappa tu proprio la straggio la straggio la straggio roba da non credere da 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 è stato un po' di vento Grazie.